Nel mercato del lavoro di oggi le imprese trovano difficoltà ad avere persone, soprattutto giovani, preparate sui temi del 4.0, dell'economia del digitale, delle nuove tecnologie. È il vero gradino per poter accedere molto spesso a posti di lavoro importanti. Questo significa due cose. Da un lato che il sistema economico si sta spostando verso l'economia 4.0, sempre più velocemente recuperando il gap che si è accumulato negli anni scorsi. Secondo, che la formazione deve riorientarsi velocemente in modo forte verso questa nuova frontiera dell'economia.